L'Università dell'Aquila è quasi tornata alle origini, abbandonando i capannoni industriali del post-sisma. A dirlo con una certa soddisfazione è la rettrice Paola Emberardi, che a sette anni dal terremoto traccia una ricognizione degli edifici. Con l'acquisizione del demanio della struttura della zona di Acquasanta, anche economie a posto, restano da definire alcune situazioni in centro, Palazzo Carli, Ospedale San Salvatore, ma si è tornati finalmente nelle tre aree. Ci rimane ovviamente da fare un po' di cose al centro storico importanti, che sono Palazzo Carli e l'ex San Salvatore, per i quali abbiamo progetti in corso, quindi speriamo di arrivare per questi due elementi, in tempi relativamente brevi, a definire sia l'accordo con gli altri soggetti, che naturalmente con il Comune, per poi andare a cercare finanziamenti pubblici per questi due enormi aggregati. Per quanto riguarda Roio, a breve verranno inaugurati nuovi laboratori della Facoltà di Ingegneria, mentre per il Palazzo Vecchio di Roio, già finanziato, i lavori hanno subito un ritardo, ma a breve partiranno. Per quanto riguarda Roio, abbiamo quasi completato i nuovi laboratori, che sono molto belli, li inaugureremo, vorrete anche lì e li vedrete. Abbiamo completato tutta la parte didattica, oramai non c'è più nulla da fare sulla didattica, ci rimane il vecchio edificio, per il quale però è tutto completo e si sta in attesa che il proprietorato bandisca la gara. Abbiamo avuto un piccolo ritardo con il nuovo codice degli appalti, che purtroppo ha fatto rimandare la gara, perché richiedeva un progetto esecutivo. Però siamo agli sgoccioli, quello è completamente finanziato e partirà. Sarà il grande cantiere laboratorio per gli studenti di ingegneria di Roio, perché nella gara, noi chiediamo anche nel bando di gara che ci siano offerte migliorative, che facciano fruire questo enorme cantiere come un laboratorio anche didattico per tutti gli studenti di ingegneria della nostra università e non solo. Quindi in qualche modo avremo un grande laboratorio a cielo aperto a Roio fra poco. Grazie a tutti.